528 aziende con 692 addetti che sostengono l'economia regionale. L'export è in crisi ma le imprese sarde comunque resistono. Sono 310.000 metri cubi di pietro ornamentali estratti nelle cave sarde anche se il prodotto finito viene lavorato fuori dall'isola. E' questo il quadro d'insieme del settore lapidio in Sardegna tratteggiato dalla Confartigianato Imprese Sardegna, un comparto che per tanti anni ha sostenuto la crescita dell'economia sarda con produzioni isolane presenti in prestigiose costruzioni in tutto il mondo. I dati sono stati rilevati dall'osservatorio dell'associazione. Dall'inizio della crisi sono scomparse 63 micro e piccole aziende. Il 16,1% del comparto è stato cancellato, scrive l'associazione. Preoccupante è la situazione dell'export nonostante l'ingente quantità di materiale estratto. Secondo la Confartigianato i bassi numeri delle esportazioni sono da spiegare col fatto che le pietre, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono vendute a società come materia prima e in un secondo tempo vengono trasformate in semi lavorati e prodotti finiti. Nel 2016 i numeri delle esportazioni di pietre tagliate, modellate e finite e made in Sardegna ammontava 2,1 milioni di euro. Il 41,1% era destinato ai mercati dell'Unione Europea, il 58,9% ai mercati extraeuropei. Solo una piccola parte del fatturato che interessa gran parte delle micro imprese del settore proviene dal mercato interno, sottolinea Antonio Mazzuzzi, neopresidente di Confartigianato Imprese Sardegna. La maggior parte del lavoro arriva dall'estero e c'è preoccupazione per i segnali di incertezza e di flessione che vengono da alcune realtà importanti. Per l'associazione sulle aziende pesano anche gli scarsi appalti pubblici e le incertezze delle norme legate alla legge urbanistica che influiscono negativamente sul sistema del pubblico e del privato.